La questione rifiuti in consiglio comunale è stata infatti presentata dall'assessore all'ambiente Marco Sacchetti la proposta di delibera per l'approvazione del piano finanziario Tari per il 2019, lo strumento attraverso il quale si definiscono i costi del servizio del ciclo dei rifiuti e il totale da coprire con la riscossione del tributo. La delibera è stata approvata con 17 voti favorevoli e 6 contrari. È stato approvato il piano economico finanziario delle Tari come previsto dalla legge che come ho illustrato in consiglio comunale si compone di più componenti, la componente che è dovuta al gestore 6 Toscana per il servizio, la componente impianti e la componente comunale. Quest'anno il corrispettivo rispetto al 2018 è aumentato leggermente, è aumentato del 4% soprattutto perché è aumentato il costo di conferimento agli impianti che ha subito invece un incremento del 9,8% e quindi malgrado il servizio sia stato comunque contenuto, l'incremento rispetto all'anno scorso ha prodotto questi risultati. Stiamo facendo per il 2020 abbiamo in programma una serie di investimenti importanti che è quello di rinnovamento di tutto il parco Cassonetti con questi nuovi cassonetti ISI di ultima generazione che il nostro auspicio è che nel giro di pochi anni diano risultati in termini di raccolta differenziata importanti, intorno al 70% e questo poi ci consente alla fine di ottenere benefici sui costi di conferimento agli impianti. Il Consiglio Comunale ha inoltre approvato anche il regolamento che consenta ai contribuenti che al 24 ottobre 2018 avevano un'avvertenza tributaria pendente con il Comune di definire il contenzioso in maniera agevolata. Tali contribuenti infatti potranno pagare non le sanzioni e gli interessi combinati nell'avviso di accertamento ma soltanto il tributo in una percentuale variabile a seconda del grado di giudizio e del suo esito.